Della gara resta la vittoria importante della Fidelis targata Gigi Panarelli, ma resta anche il giallo per un mancato gesto di fair play del campo basso, cancellato dopo pochi minuti interminabili con un nuovo gol biancazzurro. Una brutta ma anche bella pagina del calcio moderno che fa proprio del fair play in campo uno dei valori simbolo. Ma andiamo con ordine in una gara che si accende effettivamente solo nella ripresa in campo. Il 3-5-2 classico per Gigi Panarelli. Diverse le novità in campo però, subito esordio per Alcibiade, difensore ex Juventus Under-23 accanto a Sabatino e Lacassia. Esordio dal primo minuto anche per Di Piazza in attacco accanto a Bubas. Il 4-3-3 per Cudini con Di Francesco Rossetti e Liguori in avanti. Lunghi minuti di studio in fase di avvio con la maggiore intraprendenza del campo basso che ci prova due volte sugli sviluppi di due calci d'angolo. Il primo con la testa di Intengo Rang, palla alta. Più preciso invece è Bontà che scalda i guantoni di Dini. Lo stesso metronomo di centrocampo dei padroni di casa ci prova con un tiro potente da oltre 20 metri ma la palla finisce sul fondo. La Fidelis è guarding e prova a imbeccare il tandem Bubas di Piazza che veleggiano sul filo del fuorigioco senza però mai trovare lo spunto giusto almeno nella prima frazione di gioco. Allo scadere l'azione forse più pericolosa del primo tempo con Rossetti che ha sui piedi la palla buona da posizione defilata ma calcia alto. Dalli spogliato in campo una Fidelis decisamente più propositiva con buona volontà che sale di tono nel cuore del centrocampo e ci prova con due tiri nei primi sette minuti. Il primo centrale bloccato da Raccichini e il secondo potente ma questa volta troppo alto. Candellori replica con un pallone potente nel cuore dell'area di rigore che però nessuno riesce a deviare in porta Bubas protegge palla spalle alla porta in piena area di rigore e Bardella è davvero ingenuo ad atterrarlo per il direttore di gara. Allora è calcio di rigore tra le proteste di casa. Dal dischetto si presenta Matteo di Piazza che beffa Raccichini con un tiro preciso e il vantaggio andriese che potrebbe subito essere incrementato dopo la rovesciata di Bubas smanacciata da Raccichini e il tiro solitario di Casoli alle stelle da ottima posizione. La replica di casa è affidata al colpo di testa in tuffo di Di Francesco, liberissimo, palla sul fondo di poco al quarto d'ora però ecco l'episodio che cambia volto al match fino a quel momento correttissimo. Di Noia prende un colpo e Capitan Benvenga mette palla fuori per consentirne le cure. Il numero 10 andriese esce dal campo e nella ripresa delle ostilità il campo basso dovrebbe restituire palla ma il lancio verso la difesa ospite completamente ferma diventa facile preda di Tengorang che nell'incredulità generale salta Dini e deposita il pallone in porta. Veemente la reazione Fidelis assieme alle proteste che durano davvero diversi minuti alla ripresa sul pallone però ci va Bubas. Il campo basso si scansa per consentire di ristabilire il gol di vantaggio ma non è d'accordo Dalmassi che blocca l'attaccante andriese. Sugli sviluppi dell'azione Alberti calcio al volo ma sul fondo. A questo punto l'ultimo colpo di scena dalla rimessa palla restituita alla Fidelis e gol di Bubas. Un pasticcio che testimonia in pochi minuti il bello e il brutto del calcio. Sulla spinta del nuovo vantaggio è buona volontà divorarsi un gol già fatto tutto solo davanti al portiere. Tanti cambi per entrambi i tecnici e Vitali appena entrato scalda subito i guanti a Dini. La pressione di casa si allenta anche se allo scadere è mausso ad avere sulla testa il colpo del pari. Palla sul fondo, tanti minuti di recupero e Fidelis cinica a chiudere i conti. Alberti parte in posizione regolare da destra, salta un difensore, sfera che arriva nei piedi di Bolognese, tiro a botta sicura ma Raccichini compie un miracolo anche se nulla può sul secondo tiro che chiude i conti del match. Tre punti importanti per la squadra di Panarelli che risale in graduatoria e si scrolla con l'ultima piazza in classifica. Mercoledì ora si torna subito in campo per il sesto turno di campionato. A Degli Olivi di scena ci sarà il derby contro il Foggia di Zeman.